Match fondamentale in ottica salvezza, quello del Palasport di Portogruaro dove i padroni di casa di coach Chiesurin ospitavano il Tolmezzo. Entrambe le squadre arrivavano al match ancora a secco di vittorie in campionato. Apreyob risponde dall'altra parte Ostan da tre punti. Bella questa reverse di Mecchia ma sarà ancora il numero uno di Portogruaro. Ostan scatenato con la tripla a riportare avanti il team di coach Chiesurin che sarà comunque costretto ad inseguire al termine del primo quarto perché la bomba di Francescatto fissa il punteggio sul 16 a 20 per Tolmezzo. Ancora tripla per Ostan, saranno addirittura sei le bombe a bersaglio per lui che chiuderà quota 24. Ottima finta, ottima penetrazione di Tosoni che appoggia con la mano sinistra e nonostante l'ennesima tripla di Ostan, Tolmezzo riuscirà a condurre anche all'intervallo grazie a questo bel semigiancio di Mecchia. Punteggio 28 a 31 per il team di Gigi Cuder. Ottima lettura qui per Ostan che segna ancora questa volta da due punti. Entra in partita anche Bolcato con il canestro e fallo in contropiede. Partita bellissima, si gioca punto a punto, non ci sta. Iob mette questo bellissimo palleggio, arresto e tiro numero tre. Si ripete qualche istante dopo con questa bella conclusione dalla media distanza. Riceve Tosoni, ottima partenza dinamica per lui che segna, subisce il fallo. E ancora una volta porta avanti la squadra ospite ma la bomba incredibile siderale di Bolcato tiene lì Portogruaro sul meno uno del trentesimo minuto. 49 a 50 il punteggio Tolmezzo che prova a dare la zampata decisiva nel finale con Tosoni e con questo canestro impossibile di Francescato. Ma le energie inizieranno a mancare per la squadra di coach Gigi Cuder. Allora nel finale Portogruaro dilaga con le triple, prima Bolcato poi il solito Ostan che non fallisce, ancora Bolcato strepitosa. Anche la sua prestazione, bomba per il 10, partita chiusa poi da Capitan Baruzzo che si prende la tripla dal palleggio. Qui un po' pigra la difesa di Tolmezzo. Ci penserà allora Nicola Marcon a chiudere il match dalla lunetta con un freddissimo 2 su 2 per l'ex giocatore del sistema basket Pordenone. Su questo errore di Tosoni può finalmente festeggiare la panchina di Portogruaro perché arriva la prima vittoria in campionato per coach Chiesurin. Portogruaro vince con il punteggio di 67 a 63, 24 per Ostan, 17 per Iob.